ciao benvenuto al mio canale nel caso in cui ti fossi sempre chiesto quale può essere un esercizio di scioglimento delle dita da eseguire prima di iniziare a suonare la chitarra questo è il video giusto per te ti ricordo che tutti gli esercizi tratti da questi video sono presenti nei miei libri che trovi nei link in descrizione se vuoi ti puoi iscrivervi al mio canale e azionare la campanellina così sarai aggiornato di tutti i video che farò e nel caso in cui questo video ti piaccia lasciami un like e un commento in descrizione e incominciamo un metodo molto efficace per sciogliere tutte le dita prima di cominciare a suonare è quello di muovere le dita in tutte le direzioni possibili suonando su tutte le corde si può iniziare dalla sesta corda o dalla prima corda le combinazioni se io tengo fermo un dito e muovo le altre tre sono sei perché per esempio uno faccio la prima il primo pattern 1 2 3 4 1 2 4 3 la seconda 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2 ovviamente su tutte le corde la seconda combinazione sarà partirà col secondo dito e sarà le seconde 6 combinazioni saranno 2 1 3 4 2 1 4 3 2 3 1 4 2 3 4 2 2 4 1 3 2 4 3 1 le combinazioni per quanto riguarda il terzo dito saranno 3 1 2 4 3 1 4 2 3 2 1 4 3 2 4 1 poi 3 4 1 2 3 4 2 1 e infine le sei combinazioni a partire dal mignolo quindi dal quarto dito saranno 4 1 2 3 4 1 3 2 4 2 4 2 1 3 4 2 3 1 4 3 1 2 4 3 2 1 ovviamente eseguite tutte col metronomo e tutte quante su tutte le corde 4 2 1 2 2 4 3 3 3 3 3 1 1 3 3 6 4 1 1 2防 4 3 3 1 E fivone delle tao 4 4 1 3 1 2 2ор EV לא� Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.